È sempre difficile parlare in momenti come questo, un po' di più questo pomeriggio perché se ne va un gigante della storia, è arrivato per tutti noi un favore e Osman prima mi ha pregato di far sì che continui ad esserlo adesso ancora di più. Noi come comunità, come città ovviamente siamo in tutto, ci siamo stretti attorno a questa famiglia ma ci rendiamo conto che questo è un passaggio veramente difficile per tutti noi. Come ho detto a Osman, la comunità è qui, la vediamo, siamo tutti accanto a lei, accanto alla famiglia e assolutamente faremo tutto quello che è le nostre possibilità per far sì che tutto quello che è stato di incredibile valore di quello che Garibardo e Giovanna hanno fatto tutta la loro vita continua ad essere uno degli elementi fondanti e credo che in qualche modo è la democrazia che deve continuare assolutamente a vivere.